Nell'ultimo video che abbiamo dedicato all'Italia o meglio alla storia dell'Italia nel Mediolevo abbiamo visto che i comuni del nord Italia nel corso del 300, in parte anche del 200 ma soprattutto del 300 e dell'inizio del 400 andarono cambiando faccia perché le vecchie istituzioni comunali un po' alla volta lasciarono spazio a vere e proprie signorie territoriali, a principati quasi. L'abbiamo visto a Milano, l'abbiamo visto a Firenze, l'abbiamo visto in varie zone d'Italia e poi abbiamo parlato anche brevemente dell'evoluzione del Regno di Napoli, del sud Italia. Oggi proseguiamo su questa linea perché vediamo come nel 400 queste signorie andarono imponendosi e anche andarono rapportandosi tra di loro. Il 400 fu un secolo di conflitti fino a un certo punto, poi di pace, di equilibrio ma anche di grandi congiure, di grandi vendette reciproche, di piani segreti per sporestare un signore e per instaurare un altro. Insomma fu un secolo molto caldo in Italia che contribuì a cementare anche la fama dell'Italia rinascimentale come un luogo in cui si produceva grande arte, si produceva grande cultura ma ci si ammazzava anche molto facilmente. Oggi parleremo di tutto questo, parleremo cioè della politica dell'equilibrio dell'Italia del 400. Andiamo a cominciare. Un po' di caffè come sempre. Batman c'è, anche lui non manca una lezione, non perde una lezione e se siete qui per la prima volta io mi chiamo Romano Ferretti, sono un insegnante di storia e filosofia delle superiori, insegno in un liceo scientifico e sto usando già da qualche mese questo canale per preparare le video lezioni, video spiegazioni pensate principalmente per i miei studenti che adesso soprattutto che abbiamo la didattica integrata, didattica a distanza eccetera, devono comunque seguire in qualche modo e quindi mi pare un modo abbastanza efficace per continuare le nostre spiegazioni, non è come a scuola ma meglio di niente, ma possono essere utili anche per chiunque altro sia interessato a questi temi. Oggi la lezione è di storia, l'ho detto fin dalla premessa e storie medievale, in realtà fine Medioevo perché parliamo del 400 e oggi arriveremo addirittura anche a parlare del 1492, l'anno in cui convenzionalmente termina il Medioevo. Lo si fa terminare, come ben sapete perché nel 92 c'è la scoperta dell'America, Cristoforo Colombo compie il suo celebre viaggio e si imbatte in questo nuovo continente, ma per quanto riguarda la storia italiana anche per noi quell'anno è un anno particolare perché segna la morte di Lorenzo il Magnifico e segna la fine anche di una certa politica che aveva retto l'Italia nel corso del 400. In premessa però vi ho come punto di partenza di questo discorso citato vagamente un discorso che è carino e interessante che è quello del Rinascimento. Nel 400 l'Italia effettivamente è un territorio ambiguo e ambivalente perché da un lato è sicuramente la zona d'Europa e forse del mondo più culturata, più moderna, più avanzata, ci sono i grandissimi artisti del Rinascimento, non a caso, abbiamo da 400 e 500 Leonardo, Michelangelo e chi più ne ha più ne metta Donatello, sembra che stiamo elencando le tartarughe ninja, però in realtà abbiamo tanti, tanti, tanti grandi artisti, Raffaello eccetera, grandi artisti, grandi letterati e anche ovviamente grandi uomini di cultura. Effettivamente l'Italia è il baricentro culturale del mondo in quel momento, è come dire oggi New York, cioè il luogo più culturalmente interessante del mondo che influenza tutto il mondo. E quindi si parla di Rinascimento in tutto il mondo, ma qui inizia, qui nasce questo grande movimento culturale. C'erano già stati, voglio dire, le premesse nel 300 con l'umanesimo, ma insomma nel 400 è tutto un rifiorire da questo punto di vista. Ma se l'Italia è avanzatissima dal punto di vista culturale, in realtà è molto debole dal punto di vista politico, perché in Italia effettivamente non si sono andati formando stati ampi di grandi dimensioni, come invece sta avvenendo in Francia, come invece sta avvenendo in Inghilterra, come sta avvenendo in Spagna e questo sarà all'alungo un elemento di debolezza. Nel 400 sembra che le cose possano ancora durare più o meno bene per gli italiani, ma vedremo che proprio dalla fine del 400 all'inizio del 500 la situazione precipita perché l'Italia diventa rapidamente terreno di conquista delle potenze straniere. Tutti vengono in Italia, tutti vengono a conquistare in Italia perché l'Italia è ricca, l'Italia è importante ma debole e quindi la si può prendere. In questo senso vorrei citarvi una frase di un film che non c'entra niente con la storia del Medioevo, ma è, secondo me, interessante, ben riassume tutto questo concetto. È una frase celebre, che però è tratto da un film che io amo molto, quindi ve la cito. Il film si intitola Il Terzo Uomo. È un film noir degli anni 40 del 900, è un thriller insomma, però molto ben scritto, molto ben diretto. È scritto tra l'altro in sceneggiatura, se vi interessa, se siete curiosi, da Graham Greene, che è un interessante scrittore inglese. Il film ha come interprete, uno degli interpreti principali, Orson Welles, grande maestro del cinema. E proprio Welles, a un certo punto nella storia, pronuncia questa frase, una frase che poi pare, addirittura, che non ci fosse in sceneggiatura, che se la sia inventata lui. Comunque ve la cito, ve la leggo, testuale. Dice questo. Ecco, una frase chiaramente paradossale, quasi comica, però che ha qualcosa di vero al suo interno. L'Italia era davvero terreno di congiure, di conflitti, di corruzione anche, bisogna dirlo, del papato. Oggi parleremo di molti di questi conflitti, di molte di queste congiure. Eppure, nel 400 almeno per un breve periodo, tutto questo non ha minato la grandezza dell'Italia, anzi forse l'ha addirittura accresciuta. E allora andiamo a vedere quali sono queste congiure, quali sono questi problemi, quali sono questi conflitti. Focalizziamoci circa sulla metà del 400, andiamo con la mente a circa gli anni 50 del 400. Com'è la situazione in Italia? L'avevo già anticipato nel video precedente che vi linko in descrizione quella sulle signorie, ma adesso ricapitoliamo un po' il punto. In Italia ci sono tante staterelli, tante comuni che si sono ingranditi e hanno preso le dimensioni di uno stato provinciale o di uno stato regionale. Quindi più o meno una provincia attuale, una regione attuale. Tanti diversificati, alcuni piccoli, alcuni un po' più grandi. Non c'è nessuno stato unitario. Certo alcuni sono più grandi, alcuni sono più rilevanti di altri. In particolare 5 risaltano subito all'occhio se si guarda la cartina del tempo dell'Italia. 5 stati un po' più grossi, veramente regionali, a volte anche pluriregionali, cioè più grandi di una singola regione, che si contendono in un certo senso il dominio della penisola. Quali sono questi 5 stati? Da nord a sud abbiamo il Ducato di Milano, che insomma prende più o meno l'attuale Lombardia, una parte dell'attuale Lombardia che abbiamo visto nel 300 si è neanche ingrandito, rafforzato, prestigioso. Poi la Repubblica di Venezia, che come ricorderete ne parliamo già dal 1100-1200, è una grande potenza marittima, una grande potenza mercantile, ma come abbiamo detto nell'altro video, proprio nel 400 inizia a spingersi anche verso l'entroterra, cioè conquista città e campagne nel Veneto e arriva perfino nell'attuale Lombardia, a Bergamo e a Brescia, perché vuole ormai anche trovare del terreno che possa garantire l'approvvigionamento nel caso in cui le cose vadano male di amare. Quindi, ripeto, Ducato di Milano, Repubblica di Venezia, poi c'è la Repubblica di Firenze, che è una repubblica per modo di dire, perché si chiama ancora in questo modo delle istituzioni comunali, ma abbiamo detto in mano alla famiglia dei Medici, è emerso Cosimo come primo leader e poi oggi parleremo dei suoi eredi. Quindi Firenze che in realtà non prende tutta la Toscana, prende la zona di Firenze e qualche altro territorio limitrofo, però insomma già qualcosa, Firenze poi città molto ricca, città centro dell'artigianato europeo del tempo. Poi scendendo andiamo verso il nostro quarto stato che è lo stato della Chiesa, dominato dal Papa ovviamente, che prende più o meno il centro Italia, papi sempre più ricchi, sempre più anche interessati al potere e però sempre meno interessati alla spiritualità. Prima nella frase che vi leggevo di Wells si citavano i Borgia, ecco i Borgia sono una, Roderigo Borgia in particolare, un Papa di questo periodo, particolarmente emblematici di come cercassero il potere e non tanto la spiritualità. Infine quinto e ultimo regno, stato, è il regno di Napoli che si trova più a sud, da Napoli in giù, diciamo dalla Campania in giù, prende tutto e come dicevamo adesso in mano un certo Ferrante, vi ricordate abbiamo parlato l'altra volta di come si siano contesi vari sovrani il territorio, ma adesso la situazione si è abbastanza stabilizzata, Ferrante imparentato con gli Aragonesi di Spagna, però ormai un regno autonomo. Ora questi 5 territori abbastanza grandi sono quelli che tutto sommato dominano la scena e però attorno alla metà del 400 può essersi contesi vari territori che l'hanno detto nel 300, Milano cerca di espandersi, Venezia si espande, tutti cercano di stabilizzarsi o espandersi, attorno alla metà del 400 questi stati tentano di cambiare strategia, invece di farsi continuamente la guerra, invece di scontrarsi per cercare di primeggiare gli uni sugli altri, varano una nuova politica che viene chiamata politica dell'equilibrio, cioè ci si rende conto che nessuno di questi 5 stati può effettivamente soppiantare gli altri e che sia meglio tutto sommato, almeno per il momento, garantirsi una pace, un equilibrio tra queste potenze, spartirsi relativi territori e lasciarsi in pace l'uno con l'altro. L'ultima minaccia a questo equilibrio che poi viene sancito appunto negli anni 50 e nel 400 arriva pochi anni prima, pochi mesi prima, quando a Milano si apre una sorta di, potremmo chiamarla così, crisi dinastica, perché ricorderete dal video precedente che vi ho già linkato in descrizione, che a Milano si era imposta una signoria che poi si trasforma in Ducato, c'è un Duca, e questa signoria era dominata dalla famiglia dei Visconti, famiglia importante che aveva avuto vari esponenti importanti, Giangaleazzo, eccetera, l'abbiamo già citato. Ecco, questa famiglia dei Visconti a un certo punto esaurisce la propria dinastia, nel senso che l'ultimo Visconti, Filippo Maria Visconti, muore senza eredi, e quindi c'è un vuoto di potere, chi diventerà il Duca o rimarrà un Ducato questa città, questo Ducato di Milano? Allora, momentaneamente le vecchie istituzioni comunali riescono a fondare una Repubblica, che viene battezzata Repubblica Ambrosiana. Aspetta che a volte quando si parla di Milano si parla di Ambrosiano, si usa questo aggettivo, perché? Perché Sant'Ambrogio è il patrono di Milano, grande vescovo di secoli, prima ovviamente stiamo parlando delle origini della Chiesa, che però è rimasto sempre come simbolo di Milano. Allora, questa Repubblica Ambrosiana doveva autogovernarsi, ripristinare le istituzioni democratiche e repubblicane senza una signoria. In realtà questo progetto dura pochissimo, perché questa Repubblica Ambrosiana, appena fondata, è già molto debole e soprattutto perché di fianco Venezia, che si è espansa, vi ho detto, fino a Bergamo e Brescia, dice se Milano è in difficoltà possiamo espandersi ulteriormente e rubare altri territori, spingerci ancora più verso Occidente. Ecco, proprio per la difficoltà a reggere davanti all'intraprendenza di Venezia, Milano si deve affidare a un condottiero, cioè a una compagnia di ventura, dei mercenari, ne parleremo più avanti in questo stesso video di cosa sono questi mercenari, ve lo spiegherò meglio, però intanto sappiate questo, a una compagnia guidata da un condottiero molto celebre al tempo che si chiamava Francesco Sforza. Questa compagnia di mercenari riesce effettivamente a arginare l'espansionismo veneziano e Sforza viene in un certo senso ricompensato con la signoria, si prende la signoria di Milano, quindi di fatto c'è un cambio di dinastia, si passa dai visconti agli Sforza, ma di fatto cambia poco. Ecco, risolta questa questione, siamo appunto al 1450, messa pace tra Milano e Venezia, dopo che Milano qualcosa ha rischiato, si capisce che nessuno Stato, nessuno di questi cinque Stati principali potrà davvero primeggiare sugli altri e si decide di firmare una pace, un accordo che viene sancito appunto con la pace di Lodi, questa è la pace definitiva che a metà del 400 mette fine momentaneamente ai conflitti. Questa pace di Lodi, che in realtà è proprio la pace che sancisce la fine della guerra tra da una parte Milano e Firenze sulleata e dall'altra Venezia, è abbastanza importante e simbolica, arriva nel 1454 ed è la premessa a un accordo che verrà varato l'anno dopo nel 1455 che si chiama Lega Italica, che appunto cerca di mettere d'accordo tutte le principali potenze italiane, queste potenze cioè Venezia, Milano, Firenze, Roma, Stato della Chiesa e Napoli decidono di accordarsi, basta farci guerre tra di noi, basta cercare di sopraffarsi, tanto non ci riusciamo, meglio che stringiamo un patto, una Lega appunto tra di noi, perché ci sono altre minacce al di fuori di noi. Quali sono queste altre minacce? Perché si decide di mettere a parte le discordie e di allearsi, intanto un po' l'ho detto perché nessuna sembra in grado davvero di primeggiare verso contro le altre, nessuna sembra in grado di avere un ruolo egemonico nella penisola italiana e quindi è anche inutile farci la guerra per poi non riuscire mai a vincerla, questo è un primo elemento, ma poi soprattutto considerate in che periodo storico siamo, siamo al 1455, cioè alla metà dei 400, cosa è accaduto in Europa, cosa sta accadendo in Europa. Si è da poco conclusa la guerra dei 100 anni tra Francia e Inghilterra e come vi dicevo negli altri video precedenti, se volete in descrizione trovate anche il link, si stanno formando le cosiddette monarchie nazionali, cioè sta nascendo una Francia forte con un esercito addirittura permanente, sta nascendo un'Inghilterra forte, sta nascendo al giro di qualche decennio si completerà una Spagna forte. Ora, queste potenze non sono più piccoli staterelli disuniti, sono grandi stati uniti, cioè forti, con un esercito anche numeroso, cospicuo e gli italiani sanno bene che questi stati con grossi eserciti potrebbero avanzare pretese sull'Italia. L'Italia fa gola a molti perché è un territorio molto ricco, è il territorio insieme alle Fiandre più ricco d'Europa al momento, più interessante dal punto di vista commerciale, più interessante dal punto di vista artigianale, insomma è dove c'è la ricchezza. E però non ci sono grandi eserciti perché ogni staterello è piccolo e ha piccoli eserciti, poi parleremo meglio anche di questi eserciti, quindi è anche chiaro che se la Francia a un certo punto si sognasse di provare a arrivare in Italia per prendersi dei territori, nessuno staterello da solo potrebbe tenerle testa, nessuno staterello da solo potrebbe rivaleggiare con i suoi cannoni, con i suoi uomini, con le nuove tattiche militari, insomma non avremmo i soldi e le forze per resistere, questo è il concetto. Quindi è inutile che rimaniamo disuniti contro nemici così grossi, cerchiamo quantomeno di unirci tra di noi e magari sostenerci a vicenda così, se per caso Francia, Spagna o chi per loro avanzassero pretese sull'Italia, noi saremmo pronti a raccoglierli. Perché potevano avanzare pretese? Non è una cosa così fantasiosa che gli italiani abbiano paura di queste grandi potenze, guardate quello che è successo a Sud Italia, nel Sud Italia cosa è accaduto nei secoli precedenti? Ad esempio che francesi e spagnoli si sono fatti la guerra per dominare Sud Italia, vi ricordate gli angioini e gli aragonesi? Bene, adesso la cosa sembra risolta, ma questi territori, questi stati potrebbero di nuovo provare a prendersi, questa volta magari Milano, oppure Firenze, oppure Napoli, nessuno è al sicuro, nessuno è al sicuro, tutti questi stati fanno gola e lo sanno e però sono deboli e allora allearci potrebbe frenare delle pretese territoriali, delle possibili tentativi di conquista da parte di queste potenze, questo è sicuramente un elemento importante per cui la Lega Italica viene creata, ma un altro elemento importante è che in ognuno di questi stati ci sono non solo problemi con i paesi vicini, con gli stati vicini, problemi all'estero, ma ci sono anche problemi interni, nel senso che in ognuno di questi stati ci sono formate delle signorie più o meno particolari che però fanno fatica a volte a tenere il potere, pensate a Firenze, a Firenze sono saliti al potere i medici, ma è chiaro che i medici non sono l'unica famiglia importante di Firenze, ci sono altre famiglie che vorrebbero cacciare i medici e diventare loro famiglie importanti, loro guidare, loro signori della città, ma la stessa cosa a Milano, a Milano c'erano i visconti, si sono esauriti, adesso sono gli sforza, ma dureranno questi sforza o qualche altra famiglia milanese potrà farli fuori e rubare il potere e così via, un po' dappertutto, ci sono congiure un po' dappertutto. Gli stati italiani dicono, invece di perdere tempo a combattere i cittadini noi che tanto non combiniamo niente, aiutiamo i cittadini noi sia contro l'nemico esterno, cioè la Francia, sia contro gli eventuali nemici interni, cioè le congiure interne. La lega italica serve infatti anche a intervenire nel caso in cui una famiglia regnante, una signoria, venga attaccata da qualche nemico interno, cioè ad esempio se per caso, e vediamo che accadrà a Firenze, c'è una congiura contro i medici, gli altri stati, Milano, Venezia, Napoli, Roma, si impegnano a intervenire per proteggere i medici e i medici si impegnano a fare altrettanto nel caso in cui la congiura riguardi Napoli, riguardi Milano, riguardi Venezia e così via. Capite? È un patto di aiuto reciproco sia contro il nemico esterno, la Francia, eccetera, grandi eserciti, sia contro il nemico interno, magari altre famiglie nobiliari che vogliono ambire a poteri importanti. Quindi questo è il piano, il piano è un piano di conservazione del potere, è un piano che in realtà viene redatto anche a un suo senso, a una sua prospettiva importante, ma sarà un falimento. Nel senso che per qualche anno le cose andranno relativamente bene, cioè la Francia rimarrà in Francia, la Spagna rimarrà in Spagna e le congiure interne verranno in qualche modo debellate, anche se spesso a fatica. Però il sistema si leggerà finché ci saranno alcuni signori abili a farlo tenere in piedi, a farlo stare in piedi. In particolare un grande artefice di questa stagione dell'equilibrio in Italia è Lorenzo il Magnifico, signore di Firenze, importantissimo celeberrino anche dal punto di vista culturale, poeta egli stesso, mecenate, protettore di artisti, ma anche grande uomo politico che effettivamente per qualche anno riuscirà a muovere sapientemente le sue pedine sullo scacchiere. Ma quando Lorenzo il Magnifico morirà sarà il patatrac, perché i francesi arriveranno e faranno quello che vorranno in Italia, poi dopo un po' arriveranno anche gli spagnoli. Non solo, anche questo equilibrio interno tra i vari paesi crollerà in realtà già durante la signoria di Lorenzo, ci saranno guerre lo stesso, congiure lo stesso, arginate a fatica, ma magari arginate. Tra le tante congiure ce n'è una secondo me che vale la pena di segnalare, perché è famosa, perché è importante, perché poi si muove una serie di effetti a catena rilevanti. Arriva nel 1478, quindi insomma già una ventina abbondante in anni dopo la nascita della Lega Italica, è una congiura che si svolge a Firenze, che città storicamente segnata da vari conflitti, da varie pretese e viene chiamata congiura dei passi. Attenzione, si chiama così non perché fossero dei passi, cioè dei matti, quelli che l'hanno condotta, ma perché la famiglia principale, autrice di questa congiura si chiamava proprio come cognome i passi, quindi è un passi con la P maiuscola. Cosa prevede, cosa succede in questa congiura dei passi? In pratica i passi sono una famiglia nobiliare fiorentina che vuole far fuori i medici, ambisce al potere, vuole uccidere di fatto gli esponenti della famiglia dei medici e prendere il potere. Il bersaglio principale di questa congiura è Lorenzo il Magnifico, signore di Firenze già da una decina d'anni ormai, succeduto a Cosimo della stessa famiglia. La congiura si mette in atto un giorno particolare in cui Lorenzo è in chiesa tra l'altro, chiesa di Santa Maria del Fiore, celebre chiesa fiorentina, importantissima chiesa fiorentina. La congiura prevede l'uccisione di tutti i membri della famiglia dei medici e quindi un vuoto di potere conseguente e la salita al potere di questa famiglia dei pazzi la congiura in realtà fallisce perché Lorenzo viene ferito, c'è qualche morto ma tutto sommato il piano non si riesce a realizzare, Lorenzo si salva e soprattutto la popolazione fiorentina quando viene a sapere che questa congiura è partita che si sta svolgendo, che i pazzi e i loro alleati stanno cercando di uccidere la famiglia dei medici Lorenzo e tutti gli altri, la popolazione fiorentina si schiera dalla parte di Lorenzo magnifico, dei signori attuali in carica, cosa stanno? Perché in genere quando arrivano queste cose la popolazione o sta a guardare o fa il tifo per gli altri, per i nuovi, anche se poi i nuovi magari potrebbero essere il peggio dei vecchi, però in genere morte al tiranno si dice, si diceva morte al tiranno. Eppure Lorenzo ha dominato in questi anni a Firenze con una certa capacità, riuscendo anche a farsi benvolere dalla popolazione fiorentina ed effettivamente la popolazione fiorentina si schiera dalla sua parte e finisce malissimo per i pazzi perché davanti alla rivolta popolare i pazzi vengono letteralmente massacrati dal popolo imbestialito e alcuni dei loro alleati vengono anche loro barbaramente uccisi, in particolare l'arcivescovo di Pisa che era alleato, in certo senso sosteneva questa congiura, si chiamava Salviati, cognome che citeremo anche in filosofia, non è lo stesso ma è un parente, Salviati viene, citeremo con Galileo intendo che vive in realtà un sì circa un secolo dopo però sempre tra Firenze e Pisa eccetera. Ecco l'arcivescovo di Pisa Salviati viene addirittura impiccato alle finestre di Palazzo Vecchio, sapete il storico palazzo centrale di Firenze storico, quindi è una rivolta che fallisce molto male, una congiura che fallisce molto male e anche chi diciamo così l'aveva appoggiata muore malamente ma oltre all'arcivescovo di Pisa è importante notare che dalla parte della congiura si era schierato anche il Papa, lo stesso Papa romano che si chiamava in questo momento Sisto IV aveva dato il suo appoggio ai congiurati, sperava di far cadere Lorenzo il Magnifico e di avere quindi una Firenze più facilmente malleabile, controllabile vicino a lui. Ecco il fatto che Sisto IV si a lei appoggi questa congiura fa sì che poi Lorenzo una volta ristabilitosi, una volta sedata la rivolta e messi gli animi in pace di che adesso bisogna dare una regolata a questo Sisto IV, di fatto Sisto IV il Papa ha disatteso a quello che era il patto della Lega Italica, cosa diceva la Lega Italica? Che in caso di congiure che magari potevano nascere all'interno di ogni singolo paese, stato, gli altri stati dovevano sostenere il regnante, in questo caso Sisto IV non aveva affatto sostenuto Lorenzo ma anzi aveva lavorato per farlo cadere, quindi aveva trarito il patto, trarito la fiducia. Sulla base di questo tradimento e del desiderio poi di ristabilire le cose, Lorenzo Magnifico organizza una lega contro il Papa, un'alleanza che vede Firenze alleata di Milano e di Venezia con l'intento di dare una regolata a chi ha tradito il patto della Lega Italica, quindi Firenze, Milano e Venezia contro lo Stato della Chiesa, ma lo Stato della Chiesa Sisto IV tiene anche l'alleanza in sua difesa di Regno di Napoli, cattolicissimo etc., e Siena, Siena città sempre toscana ma indipendente in questa fase da Firenze che chiaramente non vuole che Firenze si espanda, che Firenze si ingrandisca, tra Firenze e Siena c'è una certa rivalità. Si formano quindi due schieramenti con lo scopo di combattersi, ma proprio in questo momento Lorenzo Magnifico dimostra di essere non solo un grande uomo di lettere, ma anche un abile diplomatico, perché decide di lasciare Firenze recarsi a Napoli, cioè dal nemico, da Ferrante, Re Ferrante di Napoli che vi ho già citato nei video precedenti e parlamentare con lui. L'obiettivo di Lorenzo è quello di convincere Ferrante a cambiare schieramento, si è schierato col Papa, ma dice Lorenzo, attenzione, qua non si tratta di una guerra contro il Papa, contro la cristianità, siamo tutti cristiani, qua si tratta di una guerra contro un Papa specifico, questo Sisto IV, che sta alterando gli equilibri in Italia, noi siamo d'accordo che dobbiamo mantenere un certo equilibrio, lui sta creando discordia, creando conflitti, creando congiure per il suo interesse personale e questo non va bene, sta danneggiando Firenze, ha rischiato di danneggiare Firenze, ma caro Ferrante, dice Lorenzo al suo collega Re, potrebbe danneggiare presto anche Napoli, oggi se le prese con noi, domani potrebbe prendersela con te, questo atteggiamento va frenato il prima possibile, perché non è positivo per le sorti dei nostri regni e dell'Italia in generale. Grazie a questa sua abilità diplomatica e retorica, Lorenzo effettivamente riesce a convincere Ferrante e Ferrante capisce che anche per lui è più conveniente dare una regolata al Papa, effettivamente il Regno di Napoli cambia schieramento, si schiera dalla parte di Firenze e degli altri, tutto questo fa sì che il Papa ormai solo con l'appoggio di Siena si trovi isolato e si arriva a una pace molto rapida nel 1480 che ristabilisce gli equilibri, il Papa è costretto a abbassare la testa in un certo senso e per il momento accettare le imposizioni di Lorenzo e dei suoi alleati. Attenzione però perché non è finita affatto qui, perché Sisto IV certo ha dovuto cedere, ha dovuto chinare la testa, ma è un caratterino anche lui forte, non è disposto a veramente accettare questo stato di cose e aspetta un paio d'anni e nel 1482 fa di nuovo una sua mossa importante, perché decide di creare di nuovo discordia tra i vari set italiani in modo anche piuttosto abile, perché decide di regalare di fatto un suo feudo a Venezia, il feudo in questione è Ferrara, la città di Ferrara importante che sta già diventando una città piuttosto ricca, sapete che Ferrara è una delle gemme del nostro rinascimento, Ferrara come altre città come Mantua, Urbino eccetera, però Ferrara sicuramente tra fine 400 e inizio del 500 vede un periodo di gloria, di espansione, anche di sviluppo economico e culturale. Ferrara all'epoca era feudo papale, il Papa però la cede a Venezia, la regala a Venezia con l'unico scopo di creare discordia, questo è il motivo, perché Venezia è già abbastanza forte, ha già l'entroterra Veneto, un pezzettino di Lombardia, se gli si regala anche Ferrara, che è una città in grande spolvero, in grande crescita, le si fa un bel regalo, Ferrara tra l'altro ha anche le valli di Comacchio, ha anche Porti, oltre che la città in sé è già importante, insomma sarebbe un bel rafforzamento per Venezia e chiaramente gli altri stati italiani non possono permettere che Venezia si rafforzi così tanto, che diventi così importante, perché altererebbe gli equilibri e quindi si forma subito, appena si viene a sapere che il Papa ha fatto questa concessione a Venezia, si forma una lega antiveneta, antiveneziana formata da Firenze, Milano, Napoli, quindi le tre principali stati a parte la Chiesa e Venezia stessa, il Papa sta a guardare perché sta muovendo le sue pedine, ripeto Milano, Venezia, Milano, Firenze, Napoli, a cui si aggiungono Bologna e Mantua, due città magari meno importanti in questo momento, però vicine chiaramente a Ferrara, alla zona di espansione di Venezia e quindi preoccupate da questa espansione di Veneziano, quindi tutti alleati contro la sola Venezia, Venezia ce l'aveva abbastanza brutta, la guerra viene chiamata, guerra di Ferrara dura un paio di anni, dal 1482 al 1484, si arriva a una pace che si chiama pace di Bagnolo, la cito non perché sia poi così importante, ma perché Bagnolo è una cittadina delle mie parti e quindi i miei studenti sanno che si combatteva qui anche, in effetti la pace cosa prevede? Prevede che Venezia rinunci a Ferrara, Ferrara rimane autonoma, non viene inglobata nella serenissima repubblica e poi si svilupperà per conto suo con gli estensi, con gli est e così via, ma Venezia comunque cosa acquisisce? Acquisisce il controllo del Polesine, cioè la provincia di Rovigo dove appunto io vivo e dove insegno. Ecco, provincia di Rovigo effettivamente tra il 400 e il 500 di Polesine passerà di mano in qualche occasione tra veneziani e ferraresi, adesso è veneziana e quindi a pace di Bagnolo, certo Venezia viene ridimensionata, non può prendersi quello che speravo, qualcosina ottiene, però di nuovo si deve mantenere l'equilibrio, l'obiettivo è sempre quello di mantenere l'equilibrio. L'ultima congiura barra ribellione che citiamo, ce ne servono anche altre, ma è inutile citarle tutte, meglio quelle più rilevanti, l'ultima ribellione avviene al sud invece, visto che il sud l'abbiamo visto un po' così disfuggita, finora anche lì c'è qualcosa, anche lì avviene qualcosa soprattutto verso la fine del secolo, perché il re Ferrante, che vi ho già citato più volte, tenta un po' gradualmente di indebolire il potere dei baroni e dei nobili, il sud come abbiamo visto già da tempo è rimasto abbastanza indietro rispetto al nord, se al nord si è sviluppato un artigianato, un'economia borghese già, potremmo quasi dire, pre-capitalistica tra Firenze e Venezia in particolare, al sud tutto questo è rimasto un po' bloccato dal fatto che c'è un grande potere dei nobili e tutto il periodo del 300 e dell'inizio 400 di grandi sommovimenti, di regnanti deboli, di dinastie che si combattono tra loro, aveva rafforzato il potere dei baroni che effettivamente dominavano abbastanza incontrastati, nel corso della seconda metà del 400 Ferrante tenta di indebolire però questi baroni, perché vorrebbe anche lui a modernare lo Stato, a centrare il potere in parte nelle sue mani e per far questo cerca di dare particolare autonomia alle città, in fondo al nord come mai la nobiltà ha perso peso? Perché ci sono sviluppati comuni e questi comuni si sono ingranditi e arricchiti un po' alla volta al sud, non ci sono grandi comuni, però Ferrante tenta di fare alcune iniziative che vorrebbero portare allo sviluppo delle città, allo sviluppo anche di una borghesia in questo sud Italia che possa così contrastare, togliere un po' di potere, mettere un po' in difficoltà la nobiltà, la vecchia nobiltà che ancora in parte domina. Tutto questo porta appunto i baroni del sud a mugugne e malcontenti fino a quando non scoppia una rivolta, rivolta dei baroni sostenuta dal Papa, non più Sisto IV che nel frattempo è morto, ma Innocenzo VIII nuovo Papa romano. Questa congiura, non proprio congiura, questa ribellione di baroni mette effettivamente in difficoltà Ferrante che si trova, tanti baroni contro lui per di più sostenuti dallo stato della chiesa confinante, fino a quando però non interviene proprio Firenze Lorenzo il Magnifico che fedele ai patti della lega italica, secondo cui bisogna sostenersi a vicenda nel caso anche di congiure, interviene per dare una mano a Ferrante ed effettivamente grazie anche all'aiuto di Lorenzo il Magnifico, Ferrante alla meglio riesce a sedare questa rivolta e questa ribellione, quindi una ribellione fallita anche in questo caso, ma sempre ve la cito perché è dimostrazione del fatto che l'equilibrio può essere mantenuto solo a patto che i regnanti dei vari stati si sostengano a vicenda. E questo sistema regge, fintanto che è vivo, Lorenzo il Magnifico come abbiamo visto è quello che più spesso riesce a gestire le situazioni di crisi, a intervenire. Nel 1492 però Lorenzo il Magnifico muore per cause naturali e però appunto alla morte di Lorenzo il Magnifico l'Italia che si affaccia al Cinquecento è un'Italia più debole perché le rivalità tra i vari stati ci sono, sono emersi varie volte, sono emersi soppite finché c'erano personalità forti come Ferrante, come Lorenzo eccetera, ma adesso possono riscoppiare molto ferocemente. E poi il progetto della lega italica anti-francese e anti-spagnola vedremo tramonta quasi subito il Cinquecento, sarà un secolo di invasioni. Per l'Italia è di perdita dell'autonomia, perdita della indipendenza, ma di questo parleremo in un video successivo. Prima di concludere questa lezione però vorrei mettere pausa un attimo agli eventi, diciamo così, politici, guerre eccetera e fare un po' il punto sulla situazione. Perché nel Quattrocento la situazione in Italia dal punto di vista dell'organizzazione militare si sta evolvendo parecchio, cioè gli eserciti stanno cambiando e non per forza il meglio. Vediamo un po' di fare il punto. Allora fino al Trecento in Italia c'erano stati sostanzialmente, in Italia e direi anche in Europa, due tipi di eserciti, due tipi di forze militari. Da un lato c'erano i cosiddetti eserciti feurali, cioè quelli formati dalla cavalleria, dai cavalieri, dai nobili che davano al sovrano, al signore o chi per lui un certo contingente di uomini di forza e di armi andavano a combattere. In fondo abbiamo detto che anche la guerra di Cent'anni, quella tra Francia e Inghilterra, era nata come guerra feudale. La Francia aveva portato la cavalleria, il grosso dell'esercito, era costituito dalla cavalleria, cioè nobili, uomini alle dipendenze di nobili che partivano e che andavano a combattere in un certo modo. Poi un po' alla volta, soprattutto ad esempio in Italia, si erano formati anche gli eserciti comunali, l'abbiamo visto con la Lega Lombarda, con i tentativi di autonomia dei comuni. Questi eserciti comunali erano diversi perché non erano più formati da nobili, ma principalmente da cittadini, a volte da uomini della campagna, del contado, che andavano a combattere per la difesa della città e delle sue autonomie. Fino al 300, globalmente, nel basso medioevo, gli eserciti erano stati di questi due tipi, grosso moro, eserciti feudali, compregi i rifetti tipici di eserciti feudali, oppure eserciti comunali, compregi i rifetti degli eserciti comunali. Queste due tipologie, un po' alla volta, nel 400, soprattutto in Italia, iniziano a essere messe da parte, per vari motivi. Primo motivo, sicuramente questi tipi di eserciti avevano dei limiti temporali, possiamo dire così. Nel senso che, pensate a un nobile, un nobile ovviamente vive nel suo feudo, ha potere, importanza nel suo feudo, ogni tanto lo lascia per andare a combattere, ma appunto può andare a combattere qualche mese, un anno, due anni, non è che può lasciarlo per 20 anni il feudo, perché se lascia il feudo per 20 anni, il feudo si squaglia, il suo potere si squaglia, c'è il rischio che sorgano nuovi signori locali, magari qualche signore abusivo che vuole prendersi il potere, insomma che il suo potere si allenti molto, quindi lui può partire, ma sempre la sua partenza è limitata a qualche mese, un anno, due anni, poi basta, poi deve per forza di cose tornare con i suoi uomini a ripendere contro loro il territorio, ma la questione è ancora più grave per gli eserciti comunali, perché erano formati questi eserciti da artigiani, mercanti, contadini, ebbene il contadino può anche lasciare la terra, ma se non torna più a coltivare la terra, il raccolto va male, l'artigiano può anche lasciare la bottega, ma se prima o poi non torna a lavorare in bottega, la bottega fallisce, tutti questi lavoratori possono combattere per periodi di tempo limitato, solo per certe fasi, non possono stare a combattere per 20 anni, eppure in Italia si stanno creando delle faide, delle congiure, delle guerre continue che durano parecchio tempo, l'abbiamo visto adesso con tutti questi esempi, Firenze è impegnata in molte guerre, Milano è impegnata in molte guerre, insomma sembra quasi che queste guerre non finiscono mai, quindi questi soldati non possono reggere questo impegno così lungo e prolungato nel tempo, devono poter tornare ai loro lavori, anche perché l'economia del paese ne risentono ovviamente, se non ci sono più contadini a coltivare la terra, se non ci sono più artigiani a lavorare nelle botteghe, tutta l'economia può crollare, quindi questo è sicuramente un primo motivo per cui il vecchio tipo d'esercito inizia a entrare in crisi, bisogna trovare un nuovo modello, ci sono però anche altri motivi, un secondo motivo è anche il fatto che la guerra sta cambiando faccia, l'abbiamo visto parlando proprio della guerra di cent'anni, abbiamo detto che in quella guerra a un certo punto compaiono le prime armi da fuoco, si usano alcuni reparti militari in modo nuovo, ad esempio l'Inghilterra all'inizio abbiamo detto usava gli arcieri e li usava in maniera molto sapiente e molto strategicamente importante per sconfiggere anche la cavalleria francese, ecco le evoluzioni dell'arte della guerra dal punto di vista delle armi e dal punto di vista della strategia impongono anche un nuovo tipo di esercito, perché non si può più raccogliere l'esercito, quello comunale si raccoglievano gli uomini, in città li si mandava, gli uomini della campagna li si mandava, non basta raccogliere uomini e mandarli allo sfacelo, al massacro, bisogna addestrarli, bisogna prepararli, bisogna farne dei buoni arcieri ad esempio, oppure comunque farne un reparto disciplinato che sappia muoverci, che sappiano usare il cannone, che sappiano far questo, che sappiano far quello, ci vuole un certo periodo di addestramento, cosa vuol dire questo? Che la leva diventa, il tempo passato nell'esercito si allunga ancora di più, perché non basta, appunto andare a fare la guerra, bisogna anche rubare 6 mesi, un anno prima per prepararli e soprattutto se ogni volta che c'è una guerra devi di nuovo radunare tutti gli uomini, devi di nuovo tutti addestrarli, il tempo passa e la guerra fallisce, abbiamo detto che in Francia non a caso la situazione si era voluta verso la nascita di un esercito permanente, cioè si era creato un esercito stabile, degli uomini pagati dallo Stato per tutta la loro carriera lavorativa e lavoravano solo per l'esercito, lasciavano le botteghe, lasciavano i campi, lì cennavano altre persone, loro diventavano dipendenti in un certo senso dello Stato, dell'esercito e avevano tutto il tempo di addestrarsi e tutto il tempo di essere pronti per guerre anche lunghe, questa è una naturale evoluzione di come sta cambiando la guerra. In Italia questo, almeno quel vecchio modello non è possibile, non puoi impegnare gente a lungo, addestrarla perché siano addestrati da qui a vent'anni, in genere è gente che ha anche un lavoro e non può stare nell'esercito per vent'anni, quindi questo secondo elemento è molto importante e poi c'è un ultimo elemento importante da tenere ben presente. Quando si raccoglievano gli eserciti o con i nobili o con la gente delle città, questo rappresentava anche un rischio politico, perché vi ricordate i vecchi eserciti feudali, quelli formati dai nobili, dai cavallieri, dai signori feudali? Il re poteva muovere la guerra, ma doveva sempre chiedere aiuto a questi nobili, implorarli a volte di aiuto e questi nobili comunque magari venivano, ma erano sempre armati. Quando poi tornavano a casa avevano le loro armi, erano nobili abituati alla guerra, erano nobili in un certo senso che vedevano nella guerra la loro prospettiva. Questo creava delle conflittualità interne al paese, perché ovviamente il re aveva dei possibili rivali armati in giro per la Francia ad esempio. Se il duca di Bretagna, se il duca d'Angiot hanno un loro piccolo esercito locale, io posso impormi con la forza delle leggi, ma fino a un certo punto perché potrebbero farmi scoppiare una guerra civile. E questo è un problema perché io in fondo mi affido a loro per l'esercito, perché io in fondo permetto che loro abbiano le armi. Bisognerebbe fare in modo che non avessero più le armi, bisognerebbe esautorarli dall'uso delle armi, concentrare le armi solo nell'esercito che obbedisce al re e così nessun altro potrà fare violenza, potrà usare la forza militare per mettere in discussione il potere del sovrano. Questo è quello che viene in Francia. In Italia c'è un altro problema in più, perché un po' dare le armi, lasciare le armi nobili è pericoloso, ma anche dare le armi agli artigiani è pericoloso. I comuni si erano difesi nel 300, nel 200, anche nel 1100 meglio ancora, così con gli artigiani in armi, il popolo in armi che andava a combattere. Però siamo così sicuri, dicono i signori, di lasciare al popolo le armi, di dare al popolo le armi, perché il popolo può usare le armi per combattere contro Venezia, per combattere contro Firenze, per combattere contro il nemico del Signore, ma poi sconfitto il nemico potrebbe anche usare queste armi per scalzare il Signore, per mettere in difficoltà il Signore, per cacciare il Signore. Cioè potrebbe usare queste armi per ribellarci e sarebbe meglio non dare loro questa opportunità, non dare loro le armi, dare le armi al popolo è pericolosissimo. Considerando tutti questi fattori, tenuto conto di tutti questi elementi, effettivamente nel corso del 400 le varie signorie italiane decidono di cambiare strategia, basta con questi eserciti comunali oppure feudali, cerchiamo un nuovo modello di esercito e il modello che si impone in Italia non è quello di esercito permanente perché queste signorie non hanno i soldi per mantenere un esercito permanente, non hanno la grandezza di uno stato nazionale che possa avere un esercito cospicuo. Non è possibile fare come hanno fatto in Francia, come stanno facendo in Inghilterra, bisogna trovare un'altra via e la via che viene individuata è quella degli eserciti mercenari. Questi eserciti mercenari nell'Italia del 400 vengono chiamati generalmente compagnie di ventura, erano compagnie cioè proprio reparti dell'esercito anche relativamente numerosi che giravano per l'Italia e si offrivano la migliore offerente, i mercenari sono questo, sono soldati a pagamento, cioè si offrivano a Milano, a Firenze, a Venezia, a Ferrara, a Bologna, a Napoli, a chi serviva, a chi aveva bisogno di fare una guerra, poteva assumere queste compagnie che erano proprio dei veri piccoli eserciti, veri e propri, ma molto esperti dell'arte della guerra perché erano dei professionisti, non c'era più bisogno di addestrarli perché erano già addestrati, già preparati, erano probabilmente in certi casi anche i migliori del loro campo e non si doveva più portare uomini via dal lavoro perché la cittadinanza rimaneva a lavoro, rimaneva nelle botteghe, rimaneva nei campi e erano altri stranieri che combattevano per conto dello Stato, del Ducato o della Signoria. Quindi una parte dei problemi che abbiamo accennato prima veniva automaticamente risolto ovviamente da queste compagnie di ventura. In genere alla guida di queste compagnie c'era un condottiero, così veniva chiamato, il capo militare di questa compagnia, così chiamato anche perché il condottiero firmava la cosiddetta condotta che era il contratto che veniva stipulato tra la città, il regno, lo Stato e la compagnia di ventura e il piccolo esercito. C'era proprio un contratto vero e proprio che sanciva quanto bisognasse essere pagati, per quanto durava l'accordo, etc. Sanciva tutta una serie di clausole di solito perché tutto fosse ben chiaro. Chi erano questi condottieri, questi leader di queste compagnie di ventura? Erano di solito o nobili decaduti, appartenenti a famiglie nobiliari che magari avevano perso potere, avevano perso prestigio e quindi erano diventati poco rilevanti e che magari in questo modo però potevano continuare a coltivare la guerra e potevano continuare a tornare importanti e acquisire territori e benemerenze, soldi anche soprattutto, oppure erano anche esponenti di famiglie già abbastanza ricche e importanti che però magari erano non il primo genito che ereditava tutto, ma il secondo terzo genito, quello che non ereditava l'eredità paterna e quindi cercavano fortuna, anche così avventurieri a volte, formavano un loro esercito, addestravano degli uomini, si li sceglievano e poi andavano a combattere. Certo era rischioso perché si poteva rischiare di morire, sempre andare in guerra continuamente, ma se si era abbastanza capaci ci si poteva arricchire parecchio. Tenete presente che queste compagnie di ventura erano lautamente pagate, abbiamo dei dati indicativi per farci capire quanto prendevano, ad esempio abbiamo un contratto fiorentino che si dice che una compagnia di ventura veniva pagata circa, come paga annuale, circa 250 volte gli introiti di una bottega di medio livello, adesso non so quanto prenda oggi una piccola industria italiana, mettiamo che abbia un fatturato, non lo so, di 300 mila euro? Infatti per 25 cosa verrebbe? Facciamo 100 mila per fare il conto torno così faccio meno fatica a fare le moltiplicazioni, 100 mila euro per 25 per fare 2 milioni e mezzo di euro, dico bene? Bene, allora fate conto che ogni anno in proporzione, per darvi una cifra, una compagna di ventura veniva pagata sui qualche milione di euro ogni anno, chiaro che era una bella introito ovviamente, certo poi il condottiere doveva spartire i soldi anche con i suoi uomini, doveva pagare tutto il suo esercito, le armi, aveva delle spese ovviamente, non è che si intascava tutti i 3-4 milioni di euro in tasca sua, però era una cifra considerevole, se poi lavoravano per più anni c'era di che arricchirsi facilmente, quindi era chiaramente un mestiere che faceva anche Gola, soprattutto guidare questi eserciti, queste compagnie di ventura. Quali famiglie in particolare hanno una buona tradizione in questo capo, perché alla fine saranno soprattutto alcune famiglie a formare i principali condottieri, ma ci sono alcune famiglie che risaltano, ad esempio c'è famiglie che abbiamo anche già sentito in passato, gli Orsini, Colonna, vi ricordate Sciarra Colonna, quello dello schiaffo di Anagni a Bonifacio VIII, ecco eredi di questa famiglia Colonna ed eredi della famiglia di Orsini che era un'altra famiglia molto importante romana, spesso a volte si danno a questo mestiere, si mettono alla guida di compagnie di ventura e poi ci sono anche gli Sforza, vi ho citato già Milano, gli Sforza prendono Milano e sono però anche loro una famiglia molto coinvolta in queste compagnie di ventura con vari condottieri importanti all'attivo. Ovviamente questi condottieri dovevano essere pagati tanto, ma non sempre, anzi quasi mai per dire la verità, le città che li assumevano poi i soldi per pagarli, cioè questo è il problema che presto si presenta, perché è vero che queste compagnie di ventura risolvono molti problemi, però non li risolvono tutti, ad esempio gli stati italiani che pure si imbarcano in numerosissime guerre e conflitti tra di loro non hanno sempre i soldi per pagare questa gente, se stanno a servizio per vari anni non ci sono i fondi per pagarli, visto che la paga è così alta poi e allora cosa succede? Allora il più delle volte gli stati offrono una sorta di compromesso a questi condottieri e alle compagnie di ventura e dicono magari non abbiamo i soldi per pagarvi, però possiamo ricompensarvi in natura, cioè gli diamo delle terre, non avendo i soldi per pagarvi quanto pattuito, sopperiamo dandovi delle terre, di fatto si assiste in Italia a un fenomeno di rifeudalizzazione, cioè quelle terre che magari erano state di feudi, ma erano state poi magari perdute perché erano stati acquisiti dal Signore, il Signore ne era entrato in possesso, la città, il Comune ne era entrato in possesso, vengono ceduti di nuovo come feudi a condottieri o loro seguaci, quindi di fatto i membri di queste compagnie di ventura iniziano a diventare dei feudatari locali, si trasformano un po' alla volta, almeno i capi, i leader, i feudatari locali, quando poi non ci sono neppure più i feudi per pagare questi condottieri, i condottieri si prendono direttamente la città, l'abbiamo proprio citato con Francesco Sforza, il importante esponente della famiglia Sforza che diventa poi Signore di Milano, ma non è un fenomeno raro, un suo parente Alessandro Sforza diventerà Signore di Pesaro ad esempio, quindi una situazione molto simile e infine anche a Perugia, a braccio di Montono, un altro grande condottiero del tempo, si prenderà in mano la città, quando non ci sono i soldi, quando il governo è debole, ormai i capitani di ventura, i condottieri prendono in mano la situazione direttamente e passano da capi militari e capi politici, segno anche della debolezza però ovviamente di questi territori italiani che tentano di tenere alto le aspettative alte, le guerre, le ambizioni e però non hanno poi i mezzi per poter essere all'altezza di queste ambizioni e questo come vi ho anticipato più volte sarà motivo di interesse per i paesi vicini, perché la Francia ad esempio, la Spagna avranno grandi ambizioni ma avranno anche i mezzi per poter soddisfare queste grandi ambizioni e ne parleremo a breve. Ultima cosa da dire e poi abbiamo finito, certo a volte queste compagnie di ventura fanno il bene dello Stato, nel senso che permettono di vincere guerre, permettono di ottenere risultati, altre volte ci prendono direttamente lo Stato, ma in generale rappresentano per la cittadinanza italiana un flagello, nel senso che è vero che c'è bisogno di questi soldati mercenari, di questi soldati ventura, di questi uomini che possono anche portare vantaggi da un certo punto di vista al paese, allo Stato, alla signoria, ma dall'altro portano sicuramente grandi svantaggi, sono degli stranieri che arrivano a combattere, sono dei mercenari a pagamento che provengono da altre zone, quindi quando arrivano in un territorio non hanno legami solidi con quel territorio, non vengono da lì, sono degli stranieri e quindi non hanno nessuna attenzione a preservare il territorio, quando io faccio combattere un esercito locale in loco, chiaramente questo esercito è formato da uomini che vivono lì o che sono imparentati, che sono legati a quei territori, quindi prima di devastare quei territori ci pensano su 4 o 5 volte ovviamente, ma se porto degli stranieri a combattere in un territorio, per loro quel territorio anche se è quello che li paga, non ha nessuna importanza, non c'è nessun motivo per preservarlo, infatti l'uso di questi eserciti mercenari segna delle disgrazie continue per la popolazione italiana, perché gli eserciti combattono e distruggono, ma poi anche questi eserciti quando i pagamenti ritardano, quando i pagamenti non arrivano, si danno spesso e volentieri a razzie, saccheggi, a volte addirittura pongono delle taglie sulle città, arrivano vicino alle città e dicono, noi abbiamo fame e non ci hanno pagati, sappiate che siamo pronti a fare razzia, a saccheggiarvi la città, pagateci se non volete questo, pagateci una certa cifra e noi lasceremo in pace la vostra città, paradossalmente proprio gli eserciti pagati da quello Stato minacciano di attaccare lo Stato stesso o delle città dello Stato stesso e spesso lo fanno, spesso lo fanno perché vogliono essere pagati, sono comunque stranieri che non hanno nessun interesse a comportarsi in un certo modo in quel territorio e questo indebolirà la lunga l'Italia perché essere sempre aggrediti dall'interno e dall'esterno non fa altro che indebolire anche l'economia della penisola e quindi gli stati italiani. Per oggi vi ho detto tutto, quello che volevo dirvi ve l'ho detto, nel prossimo video vedremo come già negli anni 90, nel 400 e poi nel 500 l'Italia diventa terreno da depredare non più solo dai mercenari ma anche proprio dagli eserciti ufficiali stranieri, dalle potenze straniere che scenderanno in Italia e faranno della nostra penisola terreno di conquista e ne parleremo, le guerre d'Italia saranno argomento molto interessante e molto importante ma lì saremo già nella età moderna, nella storia moderna perché appunto siamo arrivati più o meno a 1492 per capirci alla fine del Medioevo Italiano e comunque ne parleremo. In descrizione come sempre trovate l'elenco degli argomenti che ho affrontato oggi con di fianco il minuto e il link per riascoltarli più una serie di collegamenti ad altri video interessanti che ho citato durante la spiegazione. Vi ricordo come sempre di appoggiarvi anche al vostro libro di testo, cercare gli stessi argomenti lì, li trovate facilmente e ci vediamo presto per nuovi video di storia, filosofia ed educazione civica. Ciao, alla prossima!